A chi sta? A VINNESE LA SALUTEA L'ACQUASE FUNERANZO Sai come si chiama la tua malattia? Amore... Testa di cazzo Posso almeno andare al bagno La tavoletta La mangia la tavoletta Signor Bressan La zi Anna non c'è più Ania Ania Covacci Io la chiamavo Anna va bene? Ma è scemo? Ma lo colpisci sempre Quelli sei la frequenza Come dite quei ragazzi? Non sbaglio eh? Un'epifania Eh? Un'epifania Concentration Mio nome presteso è Zoran Spazzapan Chiamati come vuoi L'importante è che devi stare muto Ma credi che basti vincere quattro salami per farmi contento? Come fai a occuparti di un ragazzino come Zoran? Rifletti? Ma se fosse questa la mia ultima possibilità Grazie nipote Grazie nipote Grazie nipote Grazie nipote